benvenuti in questo nostro incontro argomento del giorno ancora una volta il patent box alla luce del recenti novità che sono state appunto fornite all'agenzia delle entrate in occasione appunto di speciale telefisco del 15 giugno 2022. Quali sono appunto i primi chiarimenti forniti dall'agenzia delle entrate? I primi orientamenti che vengono forniti appunto dall'agenzia riguardano i meccanismi di passaggio appunto fra i due regimi, il discorso appunto del rapporto inerente, i brevetti e i titoli privativa, la questione del passaggio di regime e le correlate partite e il rapporto del credo impostor che sviluppo con il rinnovato patent box. Partiamo subito appunto dal primo argomento ovvero i meccanismi di passaggio fra i due regimi. Da questo punto di vista l'agenzia dell'entrata affronta diciamo la questione inerente all'applicabilità del vecchio patent box a beni immateriali agevolabili collegati da un vincolo di complementarietà con altri beni intangibili ammessi alla previgente disciplina. Come sappiamo da questo punto di vista la regola generale vuole che se più beni immateriali agevolabili risultano collegati tra di loro da vincoli di complementarietà e vengono utilizzati congiuntamente per la realizzazione di un prodotto o di un processo, questi possono costituire un solo ed unico bene immateriale ai fini appunto del beneficio fiscale in esame. Da questo punto di vista l'agenzia delle entrate conferma l'orientamento già espresso appunto ecco nel provvedimento attuativo del nuovo patent box ovvero che i contribuenti non possono accedere al vecchio patent box neanche relativamente ai beni complementari a decorrere dal periodo di imposta in corso al 28 dicembre 2021. Pertanto dal periodo di imposta in corso al 28 dicembre 2021 è preclusa la possibilità per i contribuenti di accedere appunto all'opzione per il vecchio regime anche in relazione a beni tutelati giuridicamente che presentano appunto un vincolo di complementarietà con beni agevolati sotto la previgente normativa. Da questo punto di vista quindi diciamo ecco per questi nuovi beni sarà possibile optare unicamente per la nuova disciplina agevolativa e questo porterà ad una condizione diciamo di coesistenza tra il vecchio regime operante fino al termine appunto ecco del quinquennio di validità e il nuovo regime sui beni complementari. L'altro argomento riguarda l'individuazione del momento rilevante ai fini appunto ecco della nuova agevolazione. Da questo punto di vista il nuovo patent box a differenza appunto di quella che era la vecchia disciplina prevede che appunto non vengano riconosciuti come ammissibili i brevetti in corso di concessione ovvero quelli per i quali sia stata depositata la domanda di rilascio del brevetto ma non sia stato ancora emesso il relativo titolo appunto ecco di privativa. Quindi da questo punto di vista a partire appunto ecco dal 2021 l'ottenimento della privativa industriale diventa l'elemento sostanziale che consente di beneficiare appunto ecco del famoso meccanismo premiale rendendo quindi agevolabili i costi sostenuti negli otto periodi imposta precedenti. Però ovviamente attenzione se le spese degli otto anni precedenti al 2021 hanno già concorso la formazione del numeratore del rapporto del vecchio patent box queste sono esclusi appunto dalla super deduzione del 110%. Ricordiamo infatti da questo punto di vista che nel vecchio patent box l'importo dal reddito agevolabile si quantifica andando ad applicare appunto ecco al reddito dell'intangibile una percentuale. Questa percentuale è data appunto ecco dal rapporto fra le spese qualificate di ricerca e sviluppo al numeratore e i costi totali dell'intangibile al denominatore. Il tutto coerentemente con quello che è appunto ecco il principio del Nexus Approach che sostanzialmente stabilisce che benefici fiscalmente riconosciuti sui redditi derivanti dallo sfruttamento appunto ecco di beni materiali sono determinati in funzione delle spese effettivamente sostenute per la loro realizzazione. Altro argomento affrontato riguarda appunto ecco il rapporto appunto ecco tra il passaggio di regime e le perdite. Da questo punto di vista l'agenzia dell'entrata chiarisce che i due regimi appunto ecco sono differenti fra di loro e pertanto non è possibile estendere al nuovo regime la valenza delle perdite generate dal vecchio che quindi presenta come sappiamo appunto delle modalità applicative completamente differenti rispetto al primo. L'ultimo quesito riguarda un argomento affrontato diciamo in più occasioni ovvero il rapporto fra il credo d'imposta in ricerca e sviluppo e il patent box. Da questo punto di vista con particolare riferimento appunto alla corretta impostazione della documentazione nel patent box viene riconosciuta la possibilità di usufruire del meccanismo appunto ecco della penalty protection ovvero la disapplicazione in caso di contestazioni della sanzione appunto per infedele dichiarazione. Per attivare appunto ecco questa esimente sanzionatoria è necessario appunto procedere con la compilazione nel modello redditi di esercizio dell'opzione per il nuovo regime della casella 2 del rigo OP 21 denominata possesso documentazione. Ora per attivare l'esimente sanzionatoria quindi bisogna impostare appunto in maniera corretta tutto un adeguato set documentale. Attenzione però come chiarisce appunto l'agenzia delle entrate la documentazione idonea ad attivare l'esimente sanzionatoria non ha rilievo per quanto riguarda invece i controlli relative appunto al crito d'imposta e ricerca e sviluppo. Pertanto la possibilità appunto ecco della penalty protection viene circoscritta unicamente ai soggetti che abbiano optato per il nuovo regime del patent box. Io con questo vi ringrazio e ci vediamo al prossimo appuntamento.